Musica Ladies and gentlemen, this is the Ricardo Sada News Secondo te esiste il messaggio perfetto, il mix perfetto? Secondo me la cosa più difficile da trovare è il messaggio che è timeless, come si dice l'America, cioè che tu lo ascolti e potrebbe essere stato fatto due anni fa, tre anni fa, dieci anni fa, non lo sai, è un classico, Billie Jean di Michael Jackson, un classico, questa è la cosa più difficile da trovare, il messaggio perfetto è relativo a cos'è la perfezione in questo momento, che è sempre un trend, la perfezione è difficile determinare nel mix, ci sono dei parametri tecnici che quelli sono importanti e su quello penso che ci sia la possibilità di arrivare a un messaggio che ha dei parametri che sono, non dicono nella perfezione, ma negli standard qualitativi molto alti, però c'è un fatto di gusto nel mix che rende un messaggio, diciamo, del trend del momento verso uno che è timeless, ripeto, Thriller, Michael Jackson, Billie Jean o Yes o Police o altre cose dove il mastering magari di quello è datato, perché suonava con 15 dB di dynamic range dove suona bassissimo rispetto a un pezzo attuale, però certe scelte sono, ripeto, sono eterne, è come un solo di piano di chitarra incredibile che, insomma, sono dei classici, quindi anche quello esiste, secondo me. Parlando di musica, di creazione, cosa stai facendo tu? Cosa stai producendo? Con cosa sei in uscita? Ma in realtà la mia figura, io mi considero un creative mixer, cioè il mio appoggio al mixing è creativo, più che un tecnico, e con certi artisti che seguono a molto tempo, io sono un additional production in quello che faccio in realtà, nel senso che molti artisti viaggiano molto, i touring e le date di show sono molto più importanti dei dischi a livello di business, ma il disco è fondamentale per far sì che sono in tour, quindi c'è un catch tra queste due cose. Il mio lavoro è quello di mantenere uno standard qualitativo e avere un artista che è in tour con un laptop e l'idea c'è e magari sta collaborando con un altro artista e io che sono nel mio studio, prendo queste parti e faccio diventare una cosa che è quasi finita, finita. E do la possibilità all'artista, anziché stare tre settimane a impazzire, capire se la cassa esce o non esce, se il suono c'è o non c'è, che poi magari è stanco, magari ha jet lag, di continuare a fare gli show e io finisco il pezzo. Non sono un ghost producer, sono un additional producer e mixer. Ecco, per un discorso legato sempre alla creatività, con la storia che adesso si mettono a vendere anche gli stems, e non trovi che ci sia meno creatività sicuramente degli anni 80 o 90? Cioè che oggi come oggi ci troviamo tutta la pappa pronta, tante cose già, non so, con dei plug-in già, con dei preset e tutto, e non rischiamo più di sbagliare? Eh, è vero, è una cosa che succede, ma in realtà, penso, quello che succederà praticamente con gli stem darà automaticamente, se la cosa prende piede come dovrebbe, la possibilità a tutti di accedere e il discorso di butele che adesso devi impazzire per capire, prendere una voce, eccetera, diventerà normale. Cioè, automaticamente si crea uno sharing musicale di un altro livello, dove quando mandi fuori uno stem, noi abbiamo già avuto richieste, è stato richieste per fare stem mastering, inteso che diamo di stem, e la divisione sono quattro, e quindi tu in qualche modo dai una voce libera, e dai una bella batteria che può diventare tua a fare un altro pezzo. Cioè, questo problema di globalizzare tutto già sta avvenendo. Però non stai inventando niente, stai solo miscelando, sono i quattro salti in padella con su un po' di formaggio già pronto. Che se prima succedeva, adesso succederà ancora di più, in qualche modo. Cioè, secondo te oggi, anche come personaggi, chi è che osa di più, chi è che sbaglia di più e quindi chi è che sperimenta di più? Non perché sono vicini a me, però penso che a livello di, come si dice, push the envelope, penso che Skrillex e Diplo sono quelli che in qualche modo, ripeto, non perché io e io ho uno stretto legame, ma per in qualche modo, perché ho visto un'evoluzione e conosco la personalità, dove in realtà la cosa più divertente per loro è quella di fare qualcosa e farlo diventare uno standard dopo un anno e mezzo, due. Quando due anni, no di più adesso, tre anni fa, lavoravamo delle cose di major laser che erano a 110 bpm, con le cose, suoni spezzati, e un synth che era big room, e un suono che era hip hop, un'altra cosa, l'idea di Diplo diceva, ah questo mi piace tantissimo, non c'è, vai, meglio, c'è questo, non mi interessa che c'è e questo era. Quindi è veramente un fatto di sentire, di essere molto confident, che tu vai nella tua strada. L'unica differenza deve essere paziente, perché la cosa che ho notato, specialmente dei produttori che sono fuori dal circolo più creativo, che sono un attimino quelli che vogliono fare le cose un po' diciamo più prevedibili, hanno un timeline che il disco deve uscire in un mese, deve esplodere e poi finisce in un altro mese. Quindi siamo tutti dentro nei figli del meccanismo e della catena di montaggio stile Toyota? Non tutti, però per dire c'è una certa, mentre c'è una, non so, è a prescindere dalla musica, anche nel mondo house, altre cose, sono artisti che sono molto aperti a prendere, a correre dei rischi, a fare delle cose che magari ci mettono due anni da partire, o magari non partiranno mai, ma fa parte del rischio che hai. Ma tu ti senti libero? Io mi sento liberissimo. Io ho una responsabilità, che è quella della qualità e di mantenere il livello molto alto della qualità di un prodotto, di un artista che rappresenta appunto la sua musica, il suo business card, rappresenta lui. Ma suoni ancora live tu? No, no. Come DJ? No, però vado nei club di più ancora di quando suonavo, perché... Ma come frequentatore? Vado perché in realtà i miei collaboratori o clienti vanno a suonare le tracce, anche io ho mixato e vado a sentirle. A Las Vegas è diventato una buona capitale, ci sono i festival, i club, quindi vado. Però anziché andare sotto la sera a ubriacarmi, vado un'ora, vedo com'è, bello, ciao ciao e vado via. Ma il cuore è rimasto ancora verso l'hardcore, terror noise, cose pesantissime? In realtà da quando mi sono trasferito in America la mia apertura musicale si è ampliata in modo incredibile, no? Sono diventato meno legato a periodi musicali dove mi piace questo o quell'altro e sono affascinato da tutto che è di quello che è di qualità. Senti, l'ultimissima cosa, ci fai vedere qualcosina? C'hai qualcosa da farci vedere qua o qualcosa da raccontarci di trucchetto? Adesso magari niente di così innovativo che poi comunque ovviamente invitiamo tutti a partecipare ai tuoi corsi, questo è scontato anzi. Beh, in realtà, giusto due parole, cos'è questo? Il ProMix Workshop praticamente è mixing e mastering. Dicono, ma perché fai mastering che è un altro lavoro? Perché in realtà nel mio mondo il mastering è lo stage finale del mixing, mentre in altri mondi come il pop, il rock, eccetera, è una persona fa il mixing e mette la testa lì e l'altro lo prende e fa un additional, come dire, lavoro dove lo porta a un livello più alto facendo il mastering. Nel mio mondo in realtà il mastering può essere quello che ti rovina il mix, quindi io sono molto legato a masterizzare. Di tecniche mi hanno parlato in questi giorni che sono molto interessanti, che sono molto, i ragazzi che, insomma, si interessano a musica elettronica hanno un problema, è come far suonare i dischi veramente alti, ma ritenere la dinamica. Che è questa una cosa. Cosa che la Loudness War sta morendo pian pianino, meno male, no? Daft Punk insegnano. Daft Punk è una futura cosa incredibile e meno male che siete tornati a un bilanciamento, dove un giusto compromesso, insomma. E quindi, insomma, ci sono delle tecniche per fare, ottenere questo, che è quello che abbiamo, che ho condiviso in questi giorni, insomma. Vi manderò dei video. Fantastico. Luca, grazie. A presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.